Ok. La responsabilità civile consiste nell'obbligo di risarcire i danni causati alle persone, alle cose, agli animali, anche se sono a livello antico. Quindi obbligo le responsabilità o chi per lui, l'impresa assicuratrice, il risarcimento con un pagamento in denaro dal danno causato al danneggiato. La responsabilità civile è grave sul condescento e sul proprietario del veicolo. Non è grave invece sul proprietario se dimostra che il veicolo è stato usato contro la sua volontà. E' un caso di forte, indipendente alle altre responsabilità, penale e administrativa. Non è vero. 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 È vero. Non è vero. Non, non è vero. è agora potente, a che tornavo la mute, ma c'esta jest una question che stavano. C'è un'accidente grave, si észorio. Mentre i studenti, ci sono un'accidente, ci sono assurati, ci sono armadilità. Come si usa assurati una gente, si voglio assurare i ragazzi. Non lo so che assurano, non lo so e non so. Quindi si ha la responsabilità civile per un accidente che è civilemente obbligato a risarcire i danni provocati da un sinistro stradale. Quindi più incidenti puoi accordare con il denagio circa l'unità del riconoscimento, infatti puoi decidere pagare direttamente senza far intervenire l'impresa assicurativa. In questo caso conviene avvalersi di un consulente di importuna stradale, un spero immateriale per quanto è esatto l'importo del denaro causale. Il problema è che ci sia un JJ, perché i controlli che hanno assuranzi, non se ultimately prodigono questa pagina. Non c'è assuransi qua là ma i dosi riconoscibili che e questo giorno non c'è assuransi. Ma non c'è assuransi qua ma ma non c'è assuransi qua non c'è assuransi qua. La responsabilità civile è rinforzata. 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 La sensibilità penale è la cosa che si chiama lì è un accident. Ah ah, lì è un accident, lì è un accident. Quindi lì è un accident, lì è un accident, lì è un accident, che è limitato alla soluzione materiale. quindi la responsabilità di un accidente di la route pese su le proprietario e le conduce Quindi il vero, perché normalmente il proprietario, perché la questione deve attraverso il livello, attraverso il livello. Quindi, perché il proprietario non solo è dipendente, come un cliente, come un paolo, 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 come un paolo. Non, 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 ma anna, non, ma anna. Après, si il v'y a un accident, si il v'y a un accident, si le dommage exagère, il器 uno, all Dartmouth, come un paolo. Ah, ok, non, 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 non. Quindi questo vuol dire che... No, questo il l'unico francese è vero ma tutti andiamo a mettere in piacere a sezacché. Chi è civilemente obvicina a rischercare i danni provocati da un sinistro stradale poi accordarsi con il denogio circa il valore del richardimento. C'è vero perché non è un accidente normale, non c'è la parte sinistra e l'assurazione che è semplicemente obbligo a risciare in sinistro stranare si libera a dare il pagamento dell'annuncio del denaro. Il fatto è falso perché la caratteristica non c'è la responsabilità di caratteristica. Quindi è semplicemente obbligato a risciare i danni provocati da un sinistro stradale può farsi assistere da un consulente di infortuna stradale. C'è un'altra cosa che non c'è, ma non c'è il risultato del avvocato, non è avvocato che non c'è il risultato, quindi è solo l'avvocato che è avvocato che non c'è il demogio, ma non c'è il risultato che non c'è il risultato. Allora, chi è civilemente obbligatorio a ricerciarsi i danni provocati da un sinistro stradale può fare riparare il proprio, il proprio, ma il proprio. Aspetta, 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 chi è civilemente obbligatorio a rilasciarsi i danni provocati da un sinistro stradale può fare riparare il proprio veicolo? Dipende? Nire la mobile, dunque risicare fare. Dipende. Il proprio veicolo. Nire la mobile, non male mai risicare, che appartiene idiotato e irrelevatività all'andante. Chi è civilemente obbligato a ricercire i danni provocati da un sinistro stradale può fare riparare il proprio, sì. Chi è civilemente obbligatorio a ricerciarsi i danni provocati da un sinistro stradale può chiedere che la propria patente di guida sia provocata? Allo? Allo, sorry? Allo, sorry? Allo, sorry? Allo, sorry? Allo, sorry? Allo, sorry? per esempio, chi è civilemente obliquo che obliquere a richargiare e dare provo ad un sinistro strage, si libera dell'obliquo, e se richargi a un OP. Però, come si è un occhio, si è un occhio, perché non è un occhio, non è un occhio, ma è un occhio, ma è un occhio. quindi si può fare un minimo e un accidente che è normale, ma sono i sogni di Napoli. Chi è semplicemente obbligo a risarciare i danni provocati da un sinistro stradale può in alternativa chiedere che la propria patente di guida sia provocata. La responsabilità per i danni con la circolazione dei veicoli è a carico solo del condicente del veicolo se ci sono stati danni alle cose, ma solo il condicente è falso. Grazie a tutti. guarda altro l'anna sento lì 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 la responsabilità per l'italiano 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 la responsabilità per l'italiano